carissimi amici buona domenica oggi proprio studiando il rapporto fra l'obesità e l'infiammazione che noi stavamo approfondendo nei nostri video è saltato fuori un bell'articolo riguardante il rapporto e il modo soprattutto con cui la dieta chetogenica può aiutarci a combattere praticamente l'infiammazione valutando quello che è il ruolo praticamente che i chetoni svolgono nei confronti dell'infiammazione e quindi dobbiamo capire tutti noi che stiamo seguendo una dieta chetogenica e quindi siamo per essere in dieta chetogenica e questo lo ripeto sempre in uno stato continuo di chetosi vuol dire che il nostro corpo sta producendo quel chetone il bhb cioè il beta idrossi butirrato che ormai ha dimostrato di essere in grado di attivare i geni che migliorano la funzione mitocondriale riducono lo stress ossidativo quei geni che migliorando la funzione mitocondriale riducendo lo stress ossidativo svolgono ruoli importanti in tantissime malattie ne abbiamo citate cardiovascolari legate all'infiammazione neurodegenerative che colpiscono le articolazioni e che colpi che danno origine a malattie come la ipertensione polmonare e l'apsoniasi la chetosi inoltre attiva anche che cosa la mpk la mpk la proteina chinasi attivata quella proteina chinasi attivati che aiuta la regolazione della produzione energetica e soprattutto determina una inibizione la mpk la proteina chinasi attivata delle vie infiammatorie che ne abbiamo già parlato dell'fnkb l'nfkb lo ricordiamo è quel fattore nucleare k che ha l'azione di potenziare la catena leggera delle cellule b attivate e quindi è un complesso proteico in grado di agire sulla trascrizione del dna sulla produzione delle citochine quindi ecco la sua componente infiammatoria e soprattutto sulla sopravvivenza cellulare ecco l'attivazione della boptosi e quindi l'inibizione di infiammazione di questi percorsi è importante per la salute cellulare e per la salute generale dell'organismo e quindi l'infiammazione cronica quella che noi stavamo parlando e lo stress ossidativo ormai sono considerati i due fattori chiavi nello sviluppo di malattie neurodegenerative di cui tutti siamo preoccupati in particolar modo nel parkinson e nel alzheimer ma oggi parleremo anche di un'altra malattia molto importante che non colpisce solo le persone anziane ma colpisce anche i soggetti giovani che è la sclerosi multipla o sclerosi a placche e soprattutto gli studi recenti hanno dimostrato che la dieta chetogenica è soprattutto la presenza dei chetoni perché dobbiamo essere in chetosi non dobbiamo dire faccio la dieta chetogenica senza essere entrati poi in chetosi e quindi ci non funziona ma la produzione dei chetoni praticamente svolge un'importante azione diciamo sulla neuroinfiammazione di questo ne parleremo inoltre dobbiamo solo ricordare che altri studi clinici sulla chetosi nutrizionale e sulle malattie croniche colpite dall'infiammazione ha dimostrato che con la dieta chetogenica e quindi la produzione di chetoni in particolar modo del betitrossibutirrato che svolge un'importante azione anti-infiammatoria e collano la conta dei globuli bianchi e soprattutto quella di cui ce l'avevamo fermati proprio ieri la proteina c reattiva la pcr e quindi praticamente noi capiamo l'importanza di queste diete a basso contenuto di carboidrati o eliminazione dei carboidrati e non solo la dieta chetogenica classica con alto contenuto di grassi ma anche dobbiamo aggiungere sempre se entriamo poi in chetosi anche la sola restrizione calorica quindi una sorta di digiuno è in grado di portarci alla condizione di chetosi e quindi quando siamo in chetosi produciamo i chetoni come ci arriviamo ci arriviamo l'importante entrare in chetosi poi se vogliamo bruciare il grasso esogeno o il grasso endogeno e quindi anche dimagrire con il grasso endogeno ma comunque produrre chetoni noi abbiamo tutti questi vantaggi sull'infiammazione sulla riduzione della conta dei globuli bianchi sulla riduzione della proteina c reattiva sulla riduzione della neuroinfiammazione sull'attivazione della mpk la proteina aginasi attivata e sulla riduzione e la produzione del bhb con l'azione antinfiammatoria quindi nel complesso possiamo dire che la dieta chetogenica ha molti effetti antinfiammatori e benefici per la salute immunitaria e quindi possono prelevenire e alleviare non solo le infiammazioni ma anche il tipo dolore cronico ridurre le malattie autoimmune in particolar modo i sintomi legati alle malattie immuni considerati praticamente come quelle malattie autoimmuni come quelle che sono importanti per gestire abbassare i livelli dell'infiammazione e quindi dobbiamo praticamente capire quanto sia importante una dieta basata su un apporto controllato di proteine su un apporto diciamo di grassi buoni e sull'eliminazione soprattutto dei carboidrati o zuccheri e ad alto quindi usare la dieta chetogenica come un potente infiammatorio e soprattutto questa dieta chetogenica associata a una restrizione calorica sono state ormai considerate diciamo le strategie utili per ottenere una valida alternativa terapeutica nelle malattie infiammatorie nelle malattie per proliferative e soprattutto nelle malattie neurodegenerative in particolar modo gli egosanoidi pro infiammatori sono stati spesso implicati nella sclerosi multipla e della sclerosi multipla che noi vogliamo parlare in particolar modo degli egosanoidi pro infiammatori che sono coinvolti perché gli egosanoidi prodotti praticamente a livello ematico vanno a compromettere la permeabilità vascolare e inducano la migrazione degli egositi a livello nel cervello e soprattutto uno studio ha dimostrato quello che è l'impatto che hanno le diete chetogeniche nell'espressione genica degli enzimi biosintetici per la produzione degli egosanoidi pro infiammatori quali gli alox che sarebbe alox 5 sarebbe le 5 lipo ossigenasi e le cox 1 e le cox 2 le cico ossigenasi 1 e le cico ossigenasi 2 quelle tanto importanti anche nella malattia covid e quelle altri infiammatori come la lipo ossigenasi 15 e quindi questo dove nei pazienti praticamente rappresentano una sclerosi multipla recidivante remittente perché la sclerosi multipla è una malattia demilinizante infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale caratterizzata da cicli di demilizzazione e rimilizzazione ricorrente e progressive che colpiscono la sostanza bianca e la sostanza grigia determinano la distruzione degli assoni e la neuroinfiammazione e questa malattia porta alla disabilità dei soggetti giovani e quindi infine porta addirittura alla disfunzione neuronale quindi la demilizzazione che si ha nella sclerosi multipla è accompagnata dall'esonimento delle cellule precursori degli oligodendrocidi, dalla perdita degli stessi oligodendrocidi maturi, dell'astrogliosi, l'infiltrazione dei macrofagi, la microglia, l'infocidi è un disastro all'interno del nostro sistema nervoso con un danno della massa cerebrale importantissimo e purtroppo il ruolo potenziale di questa infiammazione è stato attribuito alla formazione degli egosanoidi nella patogenesi della sclerosi multipla e anche di molte altre malattie infiammatorie croniche uguali il Alzheimer o la malattia come il Parkinson e quindi la base molecolare per il processo neuroinfiammatorio o i pro-infiammatori degli egosanoidi di queste malattie è complesso ma può contribuire a capire chiaramente come la distruzione della barriera emetencefalica quindi questa protezione che il nostro cervello ha porta a un'infiltrazione più grave delle cellule immunitarie periferiche nel sistema nervoso centrale e soprattutto nella sclerosi multipla la via della 5-lipo-ossigenasi è stata considerata responsabile nell'attivazione della microglia e nelle infiammazioni perché questa enzima contribuisce al danno neuronale e alla distruzione dei motoneuroni quindi al danno proprio motorio e quindi nelle prime fasi della sclerosi multipla alle cellule del sangue infiammatorie ottengono l'accesso al cervello sfruttando che cosa? La rottura della barriera emetencefalica questa barriera emetencefalica a seguito della liberazione dei fattori e cosanoidi infiammatori determina un'alterazione, una perdita, oltre alla permeabilità vascolare, una distruzione della barriera emetencefalica e la penetrazione praticamente delle cellule infiammatorie del sangue e quindi delle gluciche e quindi praticamente l'invasione delle cellule infiammatorie, dei macrofagi con liberazione e rilascio dei mediatori infiammatori come le prostaglandine e le codrieli e soprattutto questi mediatori chimici lipidici compromettono la trasluzione del segnale interneuronale limitando e attivando l'infiammazione delle cellule immunitarie cerebrali quali la microglia riducendo la barriera emetencefalica vascolare ancora di più un circolo vizioso da cui non se ne esce i neutrofili e i monocili invasori esprimono degli enzimi chiavi della biosintesi degli ecosanoidi all'interno del cervello quali sono le 5 lipoossigenasi, l'halox 5, la cox 1 e la cox 2, la cicloossigenasi 2 e la cicloossigenasi 3 che portano una maggiore formazione di prostaglandine e leucodrieni profiammatori nel cervello ora dobbiamo dire che inoltre però nel cervello, nel cervello, quindi quello che dobbiamo capire che quindi questi leucocidi periferici possono determinare un grave danno cerebrale ora per 100 anni più la restrizione calorica, il col digiuno ma soprattutto la dieta ketogenica ultimamente stanno facendo capire grazie al passaggio a livello cerebrale del metabolismo basato su glucosio su un cervello che si alimenta di glucosio, ad un cervello che si alimenta di corpi ketonici che vengono dalla benossidazione degli acidi grassi e facendo sì che i neuroni utilizzino questi praticamente corpi ketonici come fonte primaria di energia cerebrale abbiamo già e sappiamo ormai tra tanto tempo quali vantaggi abbia la dieta ketogenica sulle convulsioni, in particolar modo quelle farmacoresistenti e nei bambini e sui disturbi del metabolismo energetico del cervello ricordando che il feto come il neonato sono degli animali, sono degli esseri umani diciamo ketogenici ok? Quindi questo è molto importante, noi nasciamo ketogenici, quindi capiamo bene qua i studi portati praticamente sull'aspetto delle convulsioni legate all'epidessia come praticamente utilizzati invece come per gli effetti antinfiammatori non solo sull'uomo ma anche sui topi e soprattutto l'aspetto neurodegenerativo e il miglioramento che hanno nella resistenza neuronale e nella sopravvivenza sonale ha indotto questa dieta ketogenica o la restrizione calorica comunque entrare in ketosi come un meccanismo importante dal punto di vista neuroprotettivo. Inoltre è stato fatto nel 2014 uno studio finalizzato a valutare i miglioramenti dell'indice di qualità di vita, di salute, una riduzione estesa nella disabilità nei soggetti praticamente che avevano problematiche neuronali, quindi diciamo la dieta ketogenica migliora la qualità di vita e migliora le disabilità. Inoltre la dieta ketogenica aveva già dimostrato vantaggi sui lipidi ematici, quindi in particolar modo sui nicotrie e sul microbiota intestinale. Per cui questo studio utilizzando la dieta ketogenica e la restrizione calorica capace di far centrare nell'ambito della produzione dei corpi ketonici ha indotto un impatto positivo, almeno è stato studiato un impatto positivo su quelli che sono gli enzimi chiavi per produrre la biosintesi degli egosanoidi quali l'Alox-5, la 5 liposigenasi, la COX-1 e la COX-2 nelle glucidi periferici. Si è visto che praticamente si ha una notevole azione che hanno queste diete sui profili di espressione igienica di enzimi chiavi coinvolti nella biosintesi degli egosanoidi nella sclerosi multipla dei pazienti, portando soprattutto di queste implicazioni è stato lo studio della Le5 liposigenasi dove è stata studiata, non tanto all'interno della massa cerebrale, ma su che cosa? Su un materiale facilmente prelevabile, i leucociti praticamente del sangue periferico e quindi durante l'intervento dietetico con la dieta chelogenica andavamo a studiare questi leucociti praticamente prelevandoli e studiandoli dopo e vedere la loro capacità e si è visto che il prodotto di espressione del gene 5 liposigenasi catalizza, che catalizza nei passaggi dell'acido, della conversione dell'acido agrachidonico in leucotrieni biologicamente attivi erano devolmente ridotto e sono questi leucotrieni biologicamente attivi a essere responsabili dell'aumento della permeabilità vascolare durante l'infiammazione, responsabili nell'innescare la migrazione dei leucociti e migliorare la chimotassi dei leucociti che possono uscire così dal sangue e raggiungere praticamente i tessuti raggiungendo così il cervello. Inoltre i leucotrieni creano nell'aria che raggiungono non solo questo aumento della permeabilità e la chemiotassi e la cucitaria ma anche un edema tessutale svolgendo un ruolo primario nei meccanismi di difesa dell'ospite contro i patogeni e promuovendo la distruzione della barriera patoencefalica. Per cui praticamente capiamo bene che tutte le isoforme delle cicloossigenasi, la COX-1 e la COX-2, sono enzimi chiavi tra l'altro nella produzione delle prostaglandine pro-inschiammatorie perché questi fattori, le prostaglandine pro-inschiammatorie catalizzano il fattore limitante e la formazione dei mediatori lipidici per cui la COX-1 è stata espressa fortemente anche la COX-2 che invece è quasi completamente legata all'infiammazione nei neuroni. Infatti l'espressione della COX-2 è indotta praticamente dagli agonisti del recettore glutammato e dall'inibizione delle COX-2 e invece mostra effetti diciamo positivi sugli studi effettuati e quindi dobbiamo dire che gli inibitori delle COX potrebbero essere utilizzati ma si è visto purtroppo che soprattutto gli inibitori del COX-2 non possono essere utilizzati come si vorrebbe perché gli inibitori del COX-2 danno delle problematiche diciamo a livello cardiometabolico, cardiovascolare nel trattamento della sclerosi multipla. Invece l'aspirina che è il classico inibitore anche delle COX-1 è spesso usato invece per limitare la gravità della fatica correlata alla sclerosi multipla e le pseudo eservazioni medionestrali associate a queste situazioni dei soggetti giovani e quindi capiamo bene quanto noi possiamo avere delle limitazioni nel trattamento di questa malattia. Di conseguenza è importante nel paziente capire che l'azione tra le 5 lipossigenasi ALOX-5 e la COX-1 può addirittura portare con la loro associazione a quadri ancora più gravi e inoltre l'abbiamo già detto che l'azione con degli inibitori delle COX-2 può essere limitato per i grossi effetti cardiovascolari legati al libido delle COX-2. Per cui in questo studio noi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto l'espressione della COX-1 e della COX-2 nelle glucidi periferici e cosa abbiamo visto che riguarda la COX-1 e la COX-2? Che le diete chetogeniche, la dieta ghettogenica è in grado di sottoregolarli, di abbassare i livelli delle COX-1 e COX-2 senza dover ricorrere all'aspirina, ricorrere agli inibitori del COX-2 che danno poi effetti cardiovascolari, quelli inibitori del COX-1 che sono l'aspirina che però poi casomai gli vengono problemi caseci. Se noi andiamo ad utilizzare una dieta ghettogenica e facciamo lavorare il nostro cervello anziché con lo zucchero lo facciamo lavorare con i corpi chetonici, il nostro cervello ci dice grazie e soprattutto abbiamo un miglioramento a livello di benefici praticamente del soggetto. Perché? Perché migliora l'indice della migliore qualità di vita che è correlata in modo robusto anche con che cosa? Con il miglioramento dei sintomi neurologici, non solo migliora qualità di vita ma migliorano anche i sintomi neurologici e il soggetto ha un abbassamento delle COX-1 e delle COX-2 nelle uccidi periferici e questo dimostra essere un fattore predittivo per l'entità delle alterazioni morfologiche a livello cellulare e quindi possiamo dire che le diete ghettogeniche nei pazienti con sclerosi multipli hanno migliorato la vita e abbassato la conta delle uccidi periferici e questi dati suggeriscono che questo approccio terapeutico può mettere a tacere l'intensità della risposta infiammatoria che potrebbe anche rallentare il progredire della malattia. Inoltre l'espressione degli enzimi classici pro-infiammatori COX-2 e ALOX-5, 5 liposigenasi, nelle uccidi periferici viene silenziato dalle diete ghettogeniche e quindi evitiamo anche così l'uso di farmaci inutili o anche soprattutto pericolosi e quindi dobbiamo capire quanto sia importante andare ad approfondire lo studio e continuare nello studio nel rapporto fra l'impiego delle diete ghettogeniche e la produzione dei corpi chetonici con la riduzione delle attività degli enzimi pro-infiammatori. Oh! Quindi la doppia inibizione della via delle cicloossigenasi e dell'ipossigenasi nelle malattie infiammatori ha quindi fornito, indotto miglioramenti promettenti e il futuro ne sarà testimone. I meccanismi su come le diete chetogeniche riducono l'espressione genica delle cicloossigenasi e dell'ipossigenasi indicano un'azione durante la quale probabilmente l'iniziale adattamento mitochondriale cellulare alle diete ghettogeniche coinvolge anche i ROS nella regolazione, quindi i radicali liberi, lo stress ossidativo e ritorniamo non solo a basso il livello di infiammazione ma anche lo stress ossidativo, nella regolazione dell'espressione zelica degli enzimi bersaglio. Pertanto una complessa interazione fra radicali liberi come molecole effettrici per orchestrare le reti geniche può regolare le principali cascate di segnalazione intracelulare e meccanismi omeostatici cellulari sotto diete chetogeniche. Quindi capiamo quanto sia importante per noi andare a seguire, grazie a questo studio, che le diete chetogeniche offrono un modo elegante per modulare l'espressione degli glucidi che producono l'ipossigenasi e il cicloossigenasi e così diventa un studio e un programma promettente per quelle che sono la terapia delle malattie infiammatorie con particolare attenzione della sclerosi multipla ma anche come prevenzione e cura di malattie come l'Alzheimer e come il Parkinson. Con questo spero di avervi non annoiato ma aver affrontato e aver avuto uno studio così importante e così chiaro che fa capire quanto la dieta chetogenica sia veramente una strategia che non è più una strategia solo per ottenere il dimagrimento ma per migliorare la qualità della vita, migliorare l'attività cerebrale e l'attività fisica di un soggetto facendolo stare in uno stato di serenità e di attività a qualunque età. Questo è l'elemento fondamentale su cui noi basiamo e improntiamo il nostro programma alimentare, quello di entrare il più rapidamente possibile in chetosi e mantenere il più a lungo possibile quello stato di chetosi facendo lavorare il nostro cervello con i chetoni che hanno un'azione fortemente pro-infiammatoria non solo sulle cellule cerebrali, una protezione sulla barriera metoncefalica ma un abbassamento dei livelli di infiammazione a livello delle cellule infiammatorie del corpo soprattutto abbassando e regolando quegli enzimi, l'attività di quegli enzimi che producono le circoossigenasi e le lipossigenasi. Con questo spero di avervi arricchito e vi auguro a tutti una buona domenica e un buon pranzo.